E' arrivato il primo punto per il Pescara-Pallannuoto in Serie 1 femminile alla settima giornata. Pescara-Pallannuoto-Sys Roma 8-8, questo è il risultato con i seguenti parziali di 2-2, 1-2, 2-3 e quando tutto sembrava perso 3-1 nel finale, prima panchina stagionale in campionato per Maurizio Gobbi. Quindi, soddisfatto oppure no? Perché a un certo punto la partita sembrava messa bene. Nel finale c'è stato il grande colpo d'orgoglio della tua squadra, ma forse ti aspettavi di più. Hai sintetizzato bene un po' il mio pensiero. E' chiaro che quando sei sotto i due gol all'ultimo tempo è sempre difficile pensare di poterla vincere la partita. Quindi la prova d'orgoglio all'ultimo tempo è sicuramente la cosa migliore che c'è stata e fa ben sperare per il futuro. Probabilmente prima potremmo fare qualcosa di meglio per incanalare la partita in un modo diverso. Non ci siamo riusciti. Ci proveremo a migliorare ulteriormente la situazione perché secondo me è assolutamente migliorabile. Questa è la cosa che mi dà più fiducia per il resto del campionato. Vorrei proprio partire, anzi ripartire da questo quarto tempo straordinario. Non era facile in una condizione come quella della tua squadra dopo 6 sconfitte consecutive avere quella forza, quell'orgoglio? Allora diciamo che c'è una buona situazione fisica e c'è una buona situazione appunto mentale di orgoglio e tutto. Quello che aveva migliorato, il compito è assolutamente mio, è tutta la parte tattica perché c'è stato in alcuni momenti della partita molta confusione, e soprattutto in attacco, ma è chiaro che non si può pensare in poco tempo di risolvere tutto. Però la condizione fisica lascia besperare perché sia in Coppa Italia che in Unipol Cup negli ultimi tempi non abbiamo mai subito nessuno e molte volte le partite si vincono all'ultimo tempo. E l'orgoglio soprattutto perché quando si è abituati a perdere, perdi sei partite di fila, è facile perdere la settima quando sei due gol sotto all'ultima giornata. Segnaliamo tra le altre cose, le tre reti della Ranalli, è forse la scarsa convinzione in superiorità numerica. Lì forse si poteva decidere la partita a vostro favore? E quello mi dispiace veramente tanto perché forse è l'aspetto tattico su cui abbiamo lavorato di più e non siamo riusciti a mettere in pratica quello che abbiamo fatto, ma sicuramente sono io che mi devo far comprendere ancora meglio. Le ragazze non hanno nessunissima colpa in questo. Probabilmente lì potremmo incandare la partita a nostro favore se avessimo messo dentro qualche superiorità numerica. Ci continueremo a lavorare.